A due, tra Anderlecht e Banik Ostrava 2-0, dopo aver sbagliato un calcio di rigore, l'Anderlecht fa due gol nel corso della ripresa, due gol peraltro tutti i danesi, li realizzano infatti al quindicesimo Brille, è l'azione che stiamo seguendo dopo una lunga tambureggiante pressione e una serie di rinvii, ecco la palla che arriva a Brille, che trova il varco tra un avversario e il portiere per realizzare il gol del vantaggio, il quindicesimo minuto, anche qui una bella scivolata sui terreni umidi di questo autunno del nord Europa e poi il raddoppio che vedremo tra poco ancora per merito del danese Arnesen in favore sempre dell'Anderlecht, Banik Ostrava battuto per 2-0, Anderlecht che va all'incontro di ritorno con possibilità di superare il turno, ecco l'azione completamente smarcata, Arnesen non ha difficoltà in diagonale a battere il portiere del Banik e il gol del 2-0 per l'Anderlecht. Si giocava in Belgio, il vantaggio da...